Reggioacanestro.it Tutta la Calabria del basket in un click Il sogno è come ce l'hanno tutte le squadre che stanno facendo i play-off? Il sogno è quello di vincere il campionato di tutte le squadre Anche di quelle che sono arrivate all'ultima giornata a fare i play-off Perché i play-off sono sempre una serie di partite dove devi essere molto bravo a dimenticare quello che hai fatto E preparare positivamente subito quella dopo Sia che hai vinto, sia che hai perso Sia che hai vinto di 30 o che hai perso di 30 Chi è più bravo degli altri a cancellare e ripartire da zero ha qualche vantaggio Ma, vedete, siamo alla prima partita Luca Dalla Vecchia, tante responsabilità per lui E' una buona partita, sicuramente il miglior Dalla Vecchia della stagione Che ne pensi? Chi ha giocato una buona partita Ha fatto vedere finalmente sul campo le sue qualità atletiche di velocità Perché ci sono pochi lunghi che sono veloci come lui Poi è chiaro, ha giocato anche 37 minuti, non può giocare così tanto E infatti questi 37 minuti li hanno un po' fatto sbagliare dei due tiri Che probabilmente tre minuti prima li avrebbero messi dentro E' una prova molto positiva L'ultima sconfitta a Casalinga parlavamo del poco minutaggio dei giovani Manzotti e Pellegrino Questa sera invece c'è stato spazio per loro Probabilmente una chiave in più che può servire anche più avanti Loro sono molto importanti perché hanno delle caratteristiche che completano la squadra Devono dare il loro contributo come l'hanno dato questa sera Possono anche fare di più E noi ci aspettiamo, io mi aspetto che loro facciano di più Mercoledì sfida a Catania Perché era presente nella sfida di campionato Fu una partita equilibratissima Un duello al tiro tra Nicolai e Trevisan Trevisan probabilmente non ci sarà Però la viola manca rip Ci proviamo È detto che ci proviamo Sono playoff E' troppo importante affrontare ogni partita con la mentalità di chi vuole vincere sempre E chi non si accontenta Se non hai questa mentalità Altro che sogno e promozione Prendi delle grandi schiaffe in faccia Reggioacanestro.it Tutta la Calabria del basket in un clip